Omni 27 è il nuovo pc desktop all-in-one di HP. Cominciamo dal design, all'avanguardia, arricchito dalla finitura in vetro dello schermo senza bordi, che fornisce ad HP Omni 27 un look davvero inconfondibile. Lo schermo risulta particolarmente ampio, un 27 pollici full HD 1080p widescreen con scheda video di ultima generazione, l'ideale per l'intrattenimento multimediale. Anche la resa sonora è notevole grazie alla tecnologia Beats Audio che restituisce un suono di altissima qualità, chiaro e avvolgente. La dotazione hardware include, oltre al potente processore Intel Sandy Bridge Core i5, ben 6 GB di RAM, un hard disk da bend 2 TB, sintonizzatore TV, una porta HDMI in, due porte USB 3.0, unità Blu-ray combo, connettività Wi-Fi e un card reader 6 in 1. Grazie alla predisposizione per l'attacco a parete con attacco VESA, Omni 27 può davvero diventare il cuore multimediale della nostra casa. Parliamo ora di Magic Canvas, si tratta di un'applicazione che permette di organizzare e gestire in modo semplice e intuitivo un numero illimitato di applicazioni. Come vediamo è possibile personalizzare a piacimento l'interfaccia grafica e lo sfondo per rendere ancora più piacevole l'utilizzo, il tutto perfettamente integrato con Windows 7. Il software HP Link App consente invece di accedere, visualizzare, interagire con i contenuti e i programmi presenti sul nostro notebook direttamente da Omni 27 e in modalità wireless senza dover ricorrere a complessi sistemi di sincronizzazione. Ripercorriamo le caratteristiche principali di HP Omni 27. Design moderno, schermo 27 pollici full HD widescreen, sistema Beats Audio, interfaccia personalizzabile e intuitiva. HP Omni 27 rappresenta dunque una soluzione eccellente per la casa e per lo studio, una riuscita combinazione tra design accattivante e intrattenimento di ultima generazione.